Le rivelazioni dell'uomo che aveva fatto della lotta all'evasione fiscale il proprio cavallo di battaglia, che era stato chiamato dal presidente Hollande a risanare i conti pubblici, e che ha chiesto al paese di stringere la cintura hanno l'effetto di un terremoto in Francia, il Premier. Jérôme Coussac ha mentito, ha mentito al presidente della Repubblica, al primo ministro. Un uomo politico deve essere irreprensibile, più di ogni altro cittadino. Deve dare prova di esemplarità e deve rispettare la legge. L'UMP all'opposizione reagisce con forza per il presidente Jean-François Coppé, la menzogna di Coussac segna definitivamente la fine della gauche moralista. C'è una domanda che tutti si pongono, come è possibile che François Hollande non sapesse? Come poteva non essere stato informato, visto che Coussac era il suo ministro del budget e che ha richiesto molte spiegazioni sulla questione? Il giornale indipendente online Mediapart, che ha fatto cadere Coussac, è stato vivamente criticato per aver gettato nel fango il nome di uno dei politici più attivi del governo, senza pubblicare le prove. Penso che si tratti di un terremoto che investe la democrazia, dice il direttore del giornale, e non misuriamo ancora tutte le conseguenze che minacciano questa oligarchia. A mezza strada tra potere politico e interesse economico, finanziario, personale. Oligarchia che si è creduta proprietaria della Repubblica, che ha anche creduto di essere al di sopra delle leggi e che oggi si rende conto che le leggi si applicano anche a lei. Là dove la democrazia francese ha agito da pessimo allievo, a un piccolo giornale indipendente come Mediapart ci sono voluti appena quattro mesi di determinazione perché questa storia facesse breccia in un muro di diniego e di menzogna. Questo non è normale. Ben voilà, c'est fatto.